E' stato l'On. Federico Dincà, nuovo Ministro per i Rapporti col Parlamento, a inaugurare a Longarone Fiere la prima edizione della Fiera e Festival delle Foreste. La manifestazione si propone come un'occasione di riflessione e confronto sul tema in vista dell'imminente anniversario dell'uragano Vaia, che nella notte tra il 29 e il 30 ottobre del 2018 ha devastato ampi settori delle montagne del Triveneto. Questa è una fiera che mette in moto un meccanismo in più, dice attenzione, il territorio ha la possibilità di poter raccogliere frutti del lavoro e dell'economia anche attraverso la cura dei boschi, perché in esso vi sono tantissime possibilità e lo si vede, perché il nostro legname in questo momento tagliato finisce in Cina, finisce in giro per il mondo, quindi vuol dire che è di alta qualità, è un settore nuovo in cui noi tutti quanti dobbiamo credere. Il futuro delle montagne venete deve essere assolutamente pianificato con grande lungimiranza, con grande rispetto. Le persone devono poter vivere all'interno delle montagne, questa è un'area dove vi è un gravissimo calo demografico nel quale si può far fronte con delle politiche innovative, vuol dire costruire lavoro, turismo ma sempre sostenibile e grandi eventi come il Mondiale di Cortina 2021 ma anche le Olimpiadi 2026. Questo è un processo che ci permetterà di poter costruire un rapporto col territorio e permettere alle persone di vivere in montagna. Una a due giorni del 14 al 15 settembre organizzata da Longarone Fiere e che ha visto grandissime partecipazioni ma anche occasioni di riflessione e confronto per riprendere la pianificazione e la gestione forestale della montagna. Si sono tenuti convegni e workshop a tema dedicati alla valorizzazione del legno, alla riqualificazione fluviale, allo sviluppo dei territori montani e specificatamente alla ricostruzione dei boschi distrutti dalla tempesta avaia. Dobbiamo creare posti di lavoro nelle montagne e ripopolarle e questa è una sfida grandissima. Noi abbiamo un progetto concreto che presenteremo a tutte le autorità ed è il progetto delle esenzioni fiscali. Le esenzioni fiscali come? Tanto per far capire quelle che ci sono per la ristrutturazione degli immobili per il risparmio energetico tal quali si possono fare precise e dedicate al settore delle montagne e quindi alla protezione dell'ambiente ma anche allo sviluppo delle nostre montagne. È una cosa semplice che genererà ulteriore reddito, crescita al paese quindi a livello romano ministeriale non devono temere questa progettualità per la quale lotteremo nei prossimi settimane, mesi e anni a livello nazionale e a livello anche europeo. Accanto alla parte fieristica il bilancio è più che soddisfacente anche per quanto riguarda il festival grazie a una proposta culturale e scientifica una prima edizione quindi che ha saputo centrare gli obiettivi offrendo in poco tempo un ampio spettro di opportunità e di approfondimenti per un vasto numero di operatori. Quello che emerge effettivamente è una fragilità del territorio, fragilità dei boschi, la necessità di creare delle infrastrutture, non abbiamo abbastanza strade nei boschi per cui non riusciamo ad arrivare dove è necessario arrivare ma soprattutto quello che stiamo capendo è che è necessario fare una pianificazione del territorio. La fiera e il festival sono stati arricchiti da una sezione artistica a cura di arte in fiera Dolomiti, mostre fotografiche e didattico informative e un'area ludica per famiglie e scuole con percorso sensoriale e laboratori tematici.